La Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche e l'Associazione Nazionale Pensionati ha organizzato un'assemblea pubblica per parlare delle necessità di servizi sociali e sanitari efficienti nelle aree rurali. Sentiamo i protagonisti di questo incontro così importante e che mette un punto su un aspetto importantissimo della vita nelle nostre zone rurali. Le aree rurali necessitano dei servizi che evitino scompensi anche a livello sanitario, di servizi sociali per gli operatori agricoli? Sì, io direi non solo per gli operatori agricoli perché l'area rurale è sicuramente per gli operatori ma è un territorio al di fuori della città. Quindi molti paesi, molti piccoli comuni sono aree rurali ma la stessa Fano potremmo definirla area rurale. Certo con problematiche un po' diverse ma per noi come organizzazione è fondamentale, sono fondamentali avere i servizi all'interno delle aree rurali. Servizi efficienti, servizi che per la collettività e quindi per la politica nelle scelte non possono essere equiparati costo uguale ricavo ma è un investimento per mantenere gli uomini, per mantenere i cittadini, per mantenere gli agricoltori a difendere un territorio che altrimenti sarebbe in qualche modo lasciato all'abbandono e provocherebbe quei disastri che poi per risistemarlo hanno costi sociali di gran lunga superiore. Perché un agricoltore interessa il reddito perché è fondamentale, in particolare i giovani che vogliono approcciarsi ma interessano anche i servizi che vanno dalla banda larga alle scuole, ai presidi sanitari, alle poste, alla viabilità, cioè tutta una serie di cose che oggi per vivere in una società moderna sono esigenze e questo, come dire, la politica deve un po' abbandonare quello che è il bacino elettorale per investimenti perché poi per le nuove generazioni si ripercuote contro le scelte politiche che non vanno a vantaggio di quei territori. Ecco, questi servizi servono a far sì che le aziende non siano delle cattedrali nel deserto, delle entità a sé stanti senza nulla attorno. Assolutamente perché poi al di là di giovani ci sono i pensionati, per esempio ci sono gli anziani i quali dobbiamo, come dire, riconoscere il ruolo che hanno avuto nella società che ci ha portato a questo benessere perché di benessere oggi si può parlare e abbiamo bisogno anche lì di mantenere l'uomo, l'uomo anziano ha i propri figli che possono continuare la loro permanenza e la loro storia all'interno di un territorio meraviglioso come quello delle marche che se ben salvaguardato, se ben investito con quelli che sono gli strumenti anche che abbiamo, perché se parliamo di sanità la regione ha poche responsabilità in quanto vengono decurtati in modo continuo e costanti tagli, ma la regione può fare delle scelte che garantiscono per esempio il primo soccorso in tempi rapidi anche nelle aree più lontane, nelle aree interne, altrimenti è inutile portare avanti i progetti per, come dire, ripopolare le aree interne per non fare ulteriore degrado, è inutile il progetto Barca che vede in qualche modo portare avanti nel nostro territorio, in alcune comuni, delle risposte per, perché se noi non riusciamo ad avere questo tipo di situazione sicuramente avremo l'inversi Il problema delle ruralità è un problema importante che attraversa anche ampi spazi generazionali dai giovani agli anziani, quindi c'è una problematica anche con molte sfaccettature. La carenza di servizi nelle aree rurali diciamo che ha effetti immediati sulle categorie deboli, i pensionati, ma ha effetti a lunga gettata, a lungo termine nei giovani, penso alla carenza di infrastrutture, penso ad esempio alla banda larga che è l'unico modo per connettersi con il resto del mondo, in un mondo così globalizzato, vicino e lontano, vicino se c'è la banda larga, lontanissimo se questo servizio non c'è. E questi servizi che sono essenziali dalle poste alle buone strade, insomma, sono essenziali per il presidio del territorio, per rimanere sul territorio, per portare avanti ciò che è stato creato dai nostri pensionati, quelli che adesso sono i pensionati, sono i fautori del nostro benessere. Prendere tutto ciò che di buono riescono ad insegnarci e portarlo avanti per dare un futuro alla nostra regione. Oggi operiamo in un sistema di rilancio dell'agricoltura con interventi comunitari, quindi partendo da questo noi vorremmo creare i presupposti e le condizioni perché questi investimenti trovano concretezza. Ritengo che per poter essere presenti in qualunque settore, ma soprattutto in quello dell'agricoltura, occorrono due condizioni. Prima condizione è il reddito, cioè che dall'attività agricola si ricavi un reddito per sé, per la famiglia. Secondo aspetto riguarda i servizi. Noi vogliamo né più né meno servizi uguali a quelli degli altri cittadini, quello che oggi noi non abbiamo. Ma noi facciamo anche proposte e diciamo che oggi gli interventi comunitari possono in qualche modo venire incontro. Ora, questi 64 milioni che sono previsti dai GAL cominciamo a dargli una priorità. La priorità è quella dei servizi sul territorio. Abbiamo un consorzio di bonifica. Cominciamo intanto a intervenire sulle strade interpoderali e in qualche modo sulla bonifica del territorio, perché sono argomenti che si possono fare, non ci possono essere scuse. Per questo abbiamo approfittato di questo momento, proprio per dire è vero che non ci sono i soldi, è vero tutto, però sappiamo di mettere a frutto questi due aspetti. Intanto iniziamo da qui. Poi detto questo, siccome agricoltori sono cittadini che pagano le tasse come tutti i cittadini, vogliamo che nella distribuzione dei finanziamenti sia regionale sia a livello dei bilanci comunali si tenga conto di coloro che abbiano sulle zone svantaggiate. Ma perché questo? Non solo per rispetto degli agricoltori e imprenditori, ma evidentemente anche per difesa del proprio territorio. Come pensa un Comune o una Regione di difendere il territorio se non c'è la presenza umana? La presenza umana c'è, a patto e condizione che ci sia l'operatore. L'operatore oggi ci può essere. Noi abbiamo anche dimostrato che sono molti i giovani interessati ad intervenire nel settore primario. Molto a questo ci sono già gli agricoltori presenti. Noi abbiamo agricoltori ormai su tutto il territorio. Non per nulla le Marche è una delle regioni più belle, grazie ai produttori e grazie agli agricoltori. E quindi vogliamo in qualche modo far sentire la nostra voce in questa direzione. È chiaro che c'è un altro problema che voglio trattare perché sono anche Presidente dei pensionati riguardo alle pensioni. Questa è una vergogna. È vergogna delle vergogne. Perché ne è vergogna? Perché intanto la categoria degli agricoltori hanno pagato i contributi secondo quanto richiesti. ci sono delle leggi, le le abbiamo rispettate. Abbiamo pagato i contributi e oggi ci ritroviamo almeno nelle Marche, parlo delle Marche ma a livello nazionale non cambia molto, che il 70% dei pensionati sono sotto i 1000 euro. E di questi il 40% sono sotto quasi 500 euro. È possibile vivere con questi tipi di risorse? Noi diciamo no. Non per nulla abbiamo fatto una raccolta dei firmi in questo senso e in questa direzione. Ma chiediamo intanto per esempio una cosa molto semplice. I famosi 80 euro che sono stati dati a una serie di categorie non si comprende il motivo per cui non vengono elargiti ai pensionati al minimo. Sembra che altre categorie vengono elargite. Quindi pensioni vivibili e servizi efficienti secondo noi sono le condizioni sine qua non per rilanciare il settore meraviglio. Allora l'area delle Marche è un'area molto diversificata ma ha di forte impatto rurale quindi insomma una necessità importante questa dei servizi mirati anche in queste zone non metropolitano. Sì, è chiaro che il sostegno alla agricoltura in particolare nelle aree interne è una delle scelte fondamentali che ha fatto la regione nel piano di sviluppo rurale. Ci sono misure specifiche proprio al sostegno dell'agricoltura nelle aree interne e che guardano con attenzione anche i servizi non solo per il mondo agricolo ma anche i servizi al cittadino. La permanenza della popolazione soprattutto nelle aree rurali ovviamente è molto condizionata dal mantenimento dei servizi che molto spesso a causa anche della spending review vengono tagliati perché a livello nazionale spesso si fanno scelte che poi si scaricano direttamente sui territori. È ovvio che a partire per esempio dalle poste, le banche, le scuole sono i servizi fondamentali, le farmacie sono i servizi fondamentali che in qualche modo devono essere garantiti. Poi c'è tutta la parte sanitaria ovviamente è quella dei trasporti su cui interviene in qualche modo la regione e su questo ovviamente c'è un livello di attenzione molto alto, dobbiamo sapere che i presidi ospedaliari delle aree interne devono mantenere la loro funzione importante come servizi al cittadino. In alcuni casi si può sopperire anche con il supporto dei privati perché il supporto dei privati convenzionati non è sempre negativo ma a volte è di supporto alla parte pubblica quando la parte pubblica non riesce ad arrivare e per quello che riguarda per esempio la provincia di Peserubino sappiamo che la nostra mobilità passiva verso le altre regioni, in particolare l'Emilia Romagna, è una mobilità passiva piuttosto rilevante quindi il sostegno dell'eventuale presenza di privati in nostro territorio potrebbe compensare spese che andiamo a pagare ad altre regioni come costo per la comunità marchigiana. Quindi la presenza di servizi sanitari, la presenza di servizi che riguardano i trasporti che vanno di pari passo anche con il progetto per le aree interne, il progetto per le aree interne che vede nella provincia di Peserubino e la provincia di Ancona come territori pilota dei tre progetti marchigiani, quindi saranno i primi a partire con 3,8 milioni di euro e proprio questi finanziamenti sono proprio destinati e finalizzati ad essere in funzione dei servizi trasporti, servizi sanitari e sociali sui territori. Quindi la presenza della popolazione in area interna è ovviamente condizionata di servizi e su questo la regione è assolutamente in prima linea. Non è facile perché in un momento di taglio, in un momento di difficoltà ovviamente anche la regione risente di quello che è l'approccio dei servizi fondamentali, però chiaramente l'impegno nostro deve essere quello di mantenere i servizi soprattutto garantirli nelle aree interne perché la presenza dei servizi garantisce anche la presenza della popolazione, la presenza della popolazione garantisce l'assetto del territorio perché laddove non c'è più la popolazione c'è anche il dissesto idrogeologico, quindi diciamo che garantendo i servizi si raggiungono due obiettivi, due scopi che sono molto importanti per tutta la nostra comunità marchigiana. Le esigenze sono diverse ma il fine è unico, al di là della fascia d'età e fascia d'utenza, un presidio del territorio è un presidio che assicura anche una vivibilità maggiore di tutta la società. Sì, senza altro perché noi abbiamo necessità di mantenere la popolazione, gli anziani e anche far tornare i giovani sul territorio per mantenere e sviluppare questo paesaggio, queste produzioni agricole che fanno la bellezza del territorio e che fanno la pille con la sua enogastronomia del turismo del nostro paese. Ecco, naturalmente esigenze diverse però servizi uguali, soprattutto in ambito sanitario dove una popolazione più anziana si sta spingendo sempre di più verso fasce più elevate d'età con esigenze ben specifiche e ben mirate. Proprio per l'invecchiamento crescente della popolazione noi abbiamo bisogno di politiche di tutti i tipi, diciamo, dagli agenti locali all'urbanistica, alla sanità e così via che guardi questo fattore. Altrimenti se non ci sarà un invecchiamento attivo e sano, noi avremo un ricorso eccessivo diciamo alle cure e quindi diventeremo sempre più farmacodipendenti con costi non sopportabili da parte della società. Allora, l'aspetto sanitario nelle aree rurali è un aspetto estremamente complesso e articolato. Non è facile trovare il bandolo della matassa? Sì, di fatto non è facile perché specialmente se continuiamo a ragionare e a pensare ai servizi così come li abbiamo pensati tanti anni fa, quando chiaramente le esigenze di salute erano diverse da quelle che sono oggi. Oggi abbiamo altri tipi di esigenze di salute e anche sociali alle quali dobbiamo dare delle risposte più appropriate. Dentro questo è chiaro che ci sta una riorganizzazione anche chiaramente dei servizi e poter anche utilizzare strumenti nuovi che la tecnologia ci mette a disposizione. Mi riferisco per esempio alla telemedicina attraverso la quale è possibile oggi portare una serie di servizi sanitari proprio al letto del malato e quindi anche nella zona più sperduta della regione è possibile magari effettuare. Dovremmo secondo me proprio concentrarsi su questo per cercare di dare risposte appropriate alla capillarità dei problemi dei cittadini. Sì perché viene spontaneo pensare ma come in un momento in cui si cerca di concentrare i servizi per avere una razionalizzazione dei costi in alcuni settori poi quando invece il territorio deve essere presidiato come facciamo? Difatti la sfida è proprio quella insomma se riuscissimo ed è appunto lo sforzo che stiamo facendo di dare delle risposte veramente per gli acuti e per le patologie complesse in strutture adeguate che hanno mezzi che hanno strumenti che hanno tecnologia in grado appunto di dare delle risposte celeri e poi tutto il resto chiaramente va gestito sul territorio e dentro il territorio naturalmente c'è anche la ruralità, gli ambienti rurali che sono appunto ancora più capillari. Ecco quelli vanno come dire presidiati con altra tipologia di servizi che non può essere l'ospedale ogni campanile ma dovranno essere servizi a bassa attività assistenziale in grado come dire di intercettare quelle esigenze attraverso anche come dire il rafforzamento della domiciliarità come dicevo prima trovando, torno a ripetere, utilizzando risorse e tecnologie che oggi la scienza ci mette a disposizione. È la sfida, è la sfida che abbiamo tutti quindi forse un numero di ospedali minore ma più come dire efficienti nel dare risposte immediate e una rete diffusa dei servizi sul territorio e capillari in grado di dare altri tipi di risposte che poi sono, penso non so, alla riorganizzazione della medicina generale attraverso la realizzazione, torno a ripetere, delle loro aggregazioni, delle loro KIP, delle case della salute laddove c'è anche l'opportunità di fare questo insomma come perno dell'assistenza primaria. E l'ospedale sempre più lasciato come dire ad un ruolo veramente come ad affrontare le patologie quelle più complesse sia in termini chiaramente di diagnosi che di risposte terapeutiche insomma. Quindi ecco questa è la sfida che, ma anche se l'abbiamo noi nelle Marche, è una sfida che hanno tutti i sistemi sanitari del nostro mondo, del mondo occidentale insomma perché è cambiata lo scenario, è cambiata i processi demografici, abbiamo sempre più, come dire, l'anziano, il non autosufficiente, le malattie croniche, sono questi che poi sono quelle che impegnano soprattutto i servizi sanitari e i servizi sanitari. Puoi sapere che io sono conoscendo la distrazione della difesa del mondo, del nascimento? No, è bene, è conteggio per la conteggio comunque, c'ho più confanza di quanto nascita che sono sotto città, non parte del interno. Allora, sindaci e amministrazioni comunali sono il primo presidio, il primo baluardo, soprattutto in queste aree un po' decentrate per monitorare la zona, intercettare le esigenze degli abitanti e dei cittadini. Ma noi lo sappiamo bene che le esigenze dei cittadini sono queste, non solo sulla costa ma anche nelle zone rurali dell'interno delle Marche. Oggi è stato focalizzato un punto molto importante, ci sono molti fondi europei che non arrivano a destinazione. Perché non arrivano a destinazione? Perché purtroppo ancora negli anni si è pensato singolarmente. Il singolo comune ha cercato di proporre o di pensare, ideare a progetti europei e poi chiaramente non ci è riuscito perché è troppo piccolo. È chiaro, nella provincia di Ancona noi come Anci siamo stati pionieri, abbiamo costituito proprio questo organismo che fa capo all'assessorato alle politiche comunitarie del comune di Ancona per poter intercettare insieme e quale miglior associazione dell'Anci che è l'associazione dei comuni italiani può mettere insieme i comuni per poter intercettare questo. Questo vuol dire che a fronte di carenze per tagli statali o regionali noi potremmo sopperire a questo con grazie alle risorse europee. Quindi le unioni e le fusioni e gli accorpamenti dei comuni e dei piccoli comuni non solo in virtù dello sblocco del patto di stabilità ma anche nell'intercettazione di fondi e di risorse. Ma sì, adesso quello è un altro cammino, un altro percorso, le fusioni e le unioni sono un'altra cosa indipendentemente dalle unioni e le fusioni potremmo farlo mettendoci insieme tutti quanti insieme partecipando a progetti comuni.